Yo, finale, amici, senti qua, serale, la squadra Zerbi e Celentano è composta da Zerbi, 5 cantanti che sono Esa, Enula, Leonardo, San Giovanni e Detti La Celentano ha 2 ballerini che sono Tommaso e Serena, Tommaso e Serena con la Celentano Yo, 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 la squadra di Arisa, Carini, è composta da Arisa, 4 cantanti che sono Gaia, Tancredi, Ible e Raffaele, mentre la Cuccarini ha 3 ballerini che sono Rosa, Martina e Alessandro, la Cuccarini con 3 ballerini Yo, e vai così, e vai così, in ultimo c'è la squadra di Pettinelli e Pepparini La Pettinelli ha un cantante che è Aka7, H7, e Aka7, H7 Mentre la Pepparini ha 2 ballerini che sono Giulia e Samuele, Giulia e Samuele La Pepparini e 2 ballerini, amici, serale, Maria De Filippio Grandissimo